Pannelli illustrativi bilingue con QR code, percorso di visita, aree di sosta, isole ecologiche, portarifiuti e portabici, cartelli con indicazioni stradali, sono questi gli elementi installati per migliorare la fruibilità dell'Anfiteatro Augusteo di Lucera. Il monumento ha beneficiato infatti dei fondi di FAI e Intesa San Paolo per aver partecipato nel 2016 al censimento i luoghi del cuore, arrivando al decimo posto con più di 23.600 voti. L'intervento, che ha risposto alla richiesta della sopraintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Battefoggia, volto alla valorizzazione dell'Anfiteatro Lucerino, è stato presentato all'ingresso del monumento alla presenza del sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, del presidente regionale FAI Puglia Saverio Russo, dei rappresentanti della sopraintendenza Domenico Ione e Anita Guarnieri e della professoressa Maria Luisa Marchi, docente di topografia antica all'Università di Foggia, presente anche il referente FAI di Lucera Giuseppe Tozziano.